scusate il ritardo ma anzi soprattutto tu alessandra scusa il ritardo ma avevo comunque i compiti anzi mi dimenticavo ecco comunque alta sponsorizzazione alessandra lupo che fa anche lei dei bellissimi video tra cui su alve disegni molto bellosi io voglio essere disegnata io e adesso riceverà una norivica tu da quanto no aspetta così ci mettiamo troppo no niente strano che non ti ha fatto ancora quella roba tipo video playlist eccetera eccetera strano anche premare così bello quindi niente seguita ah e mi sa cioè allora non ho ancora controllato è sia chiaro allora oggi c'era la scadenza per l'altro video che facevo una un video appunto su una chat che inventavate voi però mi sa che non ci siete arrivati facciamo così controllo stasera facciamo entro le 9 nausica 300 mi sembra deve avere 50 iscritti per questo per il video quello che ho detto andate a vedere anche col video e c'era un annuncio anche volevo volevo dirvi una cosa come sapete purtroppo youtube e comunque le piattaforme internet potrebbero chiudere e non solo in italia comunque penso anche in tutto il mondo e non è una bella una bella cosa perché comunque il diritto d'autore articolo 13 ormai ricopre tutto quanto cioè le canzoni così anche io l'avevo fatto soltanto che non mi hanno monetizzato nulla ho controllato giusto ieri sul computer ho tipo fatto una roba che ho scritto scuola di copyright una roba del genere e mi hanno risolto tutti i problemi avevo 4 video però quando avevo iniziato perché io stacassola la sapevo infatti di musica io non la metto più perché è appunto per il copyright quindi se andate nel video di Favij che perché io non so farlo mi spiace o magari ci provo praticamente c'è una petizione da firmare siamo arrivati più o meno ai 2.600.000 persone che hanno filmato dobbiamo arrivare a 3 milioni quindi spargete la voce detto questo seguite Alessandra Lupo come ho detto fa dei video molto belli niente ci vediamo al prossimo video ciao